Benvenuti ragazzi, eccomi qua in un nuovo video su Black Ops 3 The Racing Dracke per farvi vedere come fare il trofeo nessun superstite Per fare questo trofeo dobbiamo uccidere tre tipi di zombie, quello infuocato, elettrificato e quello normale Dobbiamo aspettare che arrivi al Panzer a round 12, fare elettrificare alcuni zombie e anche farli infuocare Per farli infuocare ci dobbiamo avvicinare al Panzer così fa, usa e lancia fiamme e infuoca gli zombie e anche leggermente noi Dirigerci qua nella piramide, qua in fondo, esattamente qua, in questa piastrina blu E sentire questo rumore Appena sentirete questo rumore dovete andare in fondo qua dove c'è la piramide, esattamente in questo punto, correndo sempre sul muro E uccidere tutti gli zombie con la minigun che avete preso nel muro E subito dopo vi darà il trofeo nessun superstite Se questa piccola guida vi è piaciuta lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi Ciao al prossimo video